Bruxelles al voto! Oggi si decide dove andrà l'Agenzia Europea del Farmaco. Ostia, le urne premiano la pentastellata di Pillo, ma a vincere è ancora l'assenzionismo. Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Tg Sestina. Oggi è giornata di voto a Bruxelles perché, come sapete, dopo la Brexit, l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e l'EBA, l'Agenzia Bancaria Europea, non potranno più stare a Londra. Milano è in lizza per aggiudicarsi la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco. Ma come funzionerà il voto e quali sono effettivamente le possibilità per la città di Milano? Ce lo spiega in collegamento con noi Massimo Ferraro. Un conclave. Così è stato ribattezzato il sistema di voto che verrà sperimentato per la prima volta oggi quando i ministri per gli affari europei dei 27 paesi voteranno per riassegnare la sede dell'Agenzia del Farmaco. L'Italia punta su Milano, che ha già una sede operativa, Pirellone, qui alle mie spalle, e tutti i servizi necessari ai 900 dipendenti che si dovrebbero trasferire in città. La Bocconi ha previsto un indotto pari a 1 miliardo e 700 milioni di euro generati prevalentemente dagli aumenti nel settore farmaceutico italiano. Ma si parlava di un conclave. Il voto sarà segreto. Oltre a Milano ci sono altre 17 città candidate. Le favorite sono Bratislava, Copenhagen, Amsterdam. E sono previsti veti incrociati e alleanze nascoste. Quindi è in questo momento impossibile prevedere l'esito. Ora, al primo turno ogni paese potrà assegnare sei punti. Tre alla prima preferenza, poi due è un punto, la seconda è la terza preferenza. Se non si dovesse raggiungere il quorum si passerebbe al secondo turno con le tre che otterranno maggiori voti. Fino ad arrivare a un terzo turno e poi a un quarto dove si voterà a sorte. Questo momento non peserà solo i requisiti tecnici che ha già Milano, ma anche i rapporti politici tra i paesi. Linea allo studio. Continuiamo a parlare di voto ma ci spostiamo sulla politica interna perché quest'oggi all'alba sono arrivati i risultati dalle urne di Ostia che premiano la candidata 5 Stelle al ballottaggio Giuliana Di Pillo con quasi il 60% delle preferenze. A vincere però e a stupire ancora una volta purtroppo sono i dati sull'assenzionismo. Tutti i dettagli da Nicola Baroni. Si potrebbe riassumere con quest'immagine di una sezione con 998 iscritti che alle ore 19 di ieri avva solo due persone votanti, un uomo e una donna. I 5 Stelle appunto espugnano il municipio decimo di Ostia con Giuliana Di Pillo nuova a capo del municipio ma a vincere è di nuovo l'assenzionismo. Il 60% dei voti sono andati ai 5 Stelle ma soltanto il 33% sono stati i votanti. Si possono giustificare questo estensionismo con il clima molto pesante che è stato vissuto nei giorni precedenti al voto con per esempio le aggressioni ai giornalisti, alla troupe Rai e a una troupe di La Sette e anche l'attacco alla sede PD di Ostia Antica. La sindaca Raggi del Comune di Roma legge la vittoria dei 5 Stelle al municipio di Ostia come una conferma del buon lavoro fatto finora mentre la candidata fedelissima di Giorgia Meloni, dei fratelli d'Italia, Monica Picca, sconfitta accusa o meglio afferma che i voti che hanno fatto vincere i 5 Stelle in realtà vengono da Casa Pound. Da qui è tutto, linea allo studio. Una tematica che conterà parecchio alle prossime elezioni politiche è quella delle pensioni. Ci sono frazioni tra il governo e i sindacati sull'aumento dell'età pensionabile. Si apre infatti domani il tavolo tra l'esecutivo e i sindacati per discutere della questione aumento dell'età pensionabile proposto a 67 anni in base alle aspettative di vita. I sindacati sono divisi sul tema Cisle e Will. Hanno posizioni più morbide dopo che il governo ha proposto lo stop di questo innalzamento per 15 categorie che svolgono mansioni più gravose mentre la CGL resta decisamente contraria e minaccia di scendere in piazza. Le pensioni è un tema divisivo così come continua ad essere diviso il centro-sinistra. Infatti non si rimarginano le fratture nel centro-sinistra e l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ora leader di campo progressista, tenta nuovamente di invitare la sinistra all'unità ma incassa il no secco di Bersani, no rivolto peraltro anche agli ex compagni di partito del PD. Ma per fare il punto sulla situazione è qui in studio con noi Giovanna Pavesi con il suo editoriale. Divisi si perde o comunque non si vince. Una lezione che si ripete soprattutto a sinistra, soprattutto nei risultati elettorali. Eppure Pierluigi Bersani e Roberto Speranza sembrerebbero essere convinti del contrario. Per ora infatti niente accordi di alleanza con il partito democratico di Matteo Renzi e la porta per MDP e anche per Sinistra Italiana è stata chiusa quasi sbattendola, almeno per ora fino alle prossime elezioni. La trattativa infatti potrebbe arrivare soltanto dopo il voto. Il motivo? Da Sinistra Italiana toni derisori. Nicola Fratoianni parla di tempo scaduto e Nichi Vendola addirittura parla di un romano pro di re di vivo, una figura evocata in una seduta spiritica. Per Bersani noi andiamo avanti per una strada dritta, non siamo interessati ad accrocchi e teatrini. Speranza parla di un Renzi uomo del passato e non uomo del futuro. Insomma, una spavalderia decisamente non giustificata, visti gli ultimi risultati e i possibili scenari che una divisione comporterebbe soprattutto alla politica locale, con 40 collegi che la sinistra divisa potrebbe regalare alla destra e soprattutto al Movimento 5 Stelle. Una proiezione elaborata da Utrend infatti mostra situazioni diverse in base alla decisione del centro-sinistra di agire unito oppure diviso. Come diceva giustamente Giulia poco fa, ad Arginare c'è Giuliano Pisapia, l'ex sindaco di Milano, che chiede a MDP e a Sinistra Italiana di ripensarci. Li accusa di fare la cosa rossa e di disperdere voti ed energie, creando ancora una volta un vuoto a cui la sinistra purtroppo ha abituato negli anni i suoi elettori, una sinistra scomparsa in cui l'elettorato fatica ad identificarsi. Grazie Giovanna. Parlavamo di elezioni e di governabilità. Le elezioni sono una patata bollente anche in Germania, perché Angela Merkel a quasi due mesi dal voto non ha ancora un governo e notizia della notte sono saltate le trattative per un governo di coalizione, saltate a causa dei liberali. Ci dice di più il servizio di Giacomo De Tommaso. L'ufficialità è arrivata a mezzanotte. Le trattative di Angela Merkel per formare un governo di coalizione sono fallite. Una coalizione che avevano ribattezzato Giamaica, per via dei colori della bandiera del paese caraibico. Il nero dei cristiani democratici di Merkel, il verde del partito ambientalista, più il giallo dei liberali. Proprio questi ultimi però hanno fatto saltare il banco. Il loro leader, Christian Linder, ha motivato la rottura dicendo «preferiamo non governare che governare male». Insostenibili le divergenze di opinioni sui temi quali l'immigrazione, la riduzione del CO2 e la chiusura delle centrali a carbone. Soprattutto con i verdi, i quali hanno accusato Linder di aver assunto posizioni populiste. Cosa succederà ora in Germania? I social democratici di Schulz hanno ribadito di non voler ripetere la grande coalizione che ha tenuto in piedi il primo e il terzo governo Merkel. La cancelliera oggi andrà dal presidente federale Frank-Walter Steinmeier per informarlo della situazione. Da verificare la possibilità, inedita, di un governo di minoranza. Più probabile la terza via. L'immediato ritorno alle elezioni. Anche questo non è mai successo dai tempi della Repubblica di Weimar. Gli effetti dell'incertezza tedesca si fanno sentire anche sull'euro. Infatti oggi all'apertura della borsa il cambio euro-dollaro è sceso. Sotto la soglia 1,18. Sempre dalla borsa arriva la notizia che Consob ha riammesso il gruppo Carigie, il titolo Carigie appunto in borsa, perché sono stati siglati gli accordi per un aumento di capitale. Si parla di 560 milioni di euro di aumento di capitale. Un aumento di capitale che da tempo l'Europa chiedeva. Per effetto di questo aumento, oggi il titolo apre però a ribasso, con un calo teorico del 49%. Passiamo però ora a Napoli per una notizia di cronaca, perché all'alba di oggi un'operazione congiunta di carabinieri e polizia ha messo in manette 43 esponenti di camorra. Ci dice di più Jacopo Bernardini. Qual è la situazione, Jacopo? Sì Giulia, sono scattati questa mattina prima dell'alba i blitz di carabinieri e polizia che vediamo nelle immagini e che hanno portato all'arresto di 43 persone accusate di associazione di tipo mafioso, traffico di droga e detenzioni di armi da guerra. L'operazione contro il clan Lorusso, che è re della droga nella zona nord di Napoli, è stata resa possibile dalle dichiarazioni di Antonio Lorusso, rampollo del papà, il boss Salvatore, che è stato arrestato nel 2014 nella sua amata costa azzurra ed è divenuto poi, una volta in carcere, collaboratore di giustizia. Da racconti del pentito sono emersi i dettagli di come opera il clan, dall'organizzazione delle piazze di spaccio, ai metodi di riciclaggio di denaro, dalla suddivisione dei traffici di quartiere per quartiere fino alle armi. Un arsenale composto da kalashnikov, fucili, pistole e centinaia di munizioni che sono stati sequestrati questa mattina dalle forze dell'ordine. Per il momento da Napoli è tutto, ridò la linea allo studio. Grazie Jacopo, passiamo ora dalla camorra alla mafia perché è arrivato il nulla osta dal tribunale di Parma per il trasferimento della salma di Totorina. Il capo mafioso, lo ricordiamo, è morto venerdì nell'ospedale di Parma, non si è mai pentito e verrà ora trasferito nel cimitero di Corleone. La chiesa, lo ricordiamo, ha negato la possibilità di funerali pubblici e non ci sarà neanche una cerimonia pubblica. Torniamo però a Milano perché a Milano ieri si è conclusa con successo Book City, la rassegna Book City, per cui si sono contati oltre 170.000 visitatori. Una rassegna che ha coinvolto tutta la città per tre giorni. La seguita per noi, Marco Procopio. Book City è tre giorni di eventi letterari, 175.000 visitatori e più di mille incontri. Ma Book City è anche un modo per scoprire o riscoprire gli oltre 250 luoghi di Milano che lo ospitano. Il luogo mi ha colpito moltissimo appena sono entrato. È molto bello, mi sembra una cosa assolutamente interessante. Fino a questo momento direi che è un'ottima cosa. Dall'orto botanico della Statale, che ha aperto i suoi cancelli per una visita guidata, a Palazzo Clerici, sede dell'ISPI. Dalla modernità del padiglione Visconti in via Tortona a Cascina a Cuccagna, un angolo di verde nel cuore della città. Ho visto l'evento sul sito di Book City, mi sono subito prenotata, perché penso che sia uno dei luoghi che non si conoscono di Milano, ma che sarebbe bello vedere e che tutti conoscessero. Non ero mai stato qui e sono venuto per l'iniziativa di Book City. Appena sono entrato mi ha fatto una grande impressione questo posto e mi sembra che sia tutto molto interessante. E questa è la fonderia napoleonica, che per una sera si è trasformata in un palcoscenico di teatro. Book City ha invaso anche la stazione centrale, che da luogo frenetico e di passaggio si è trasformata in un oasi di relax. Continuiamo a parlare di Book City, perché una delle tematiche fondamentali di questa edizione della rassegna è stata quella della parità di genere. A presentare un libro interamente dedicato a questa tematica c'era la giornalista Tiziana Ferrario e a seguirla per noi, Ambra Orengo, il servizio. Mai dare per scontati i propri diritti. Lo sanno bene le donne americane che, dopo l'elezione di Donald Trump, sono scese in strada per difenderli. E lo sa bene anche Tiziana Ferrario, che quelle proteste le ha raccontate in un libro. Io parto dall'America, da questa voglia di alzare la voce, di difendere dei diritti che fino a poco tempo fa venivano dati per scontati e che con l'avvento di Trump non sono più così scontati. Resta il fatto che la parità è una sfida incompiuta e che ancora c'è molto da fare. La giornalista del Tg1 è stata una delle protagoniste di Book City, la rassegna milanese dedicata alla letteratura. Durante la presentazione del suo libro ha discusso con alcune amiche e colleghe su cosa siano oggi le pari opportunità. Rimane ancora il problema che se tu incontri in un ospedale due persone con il cavice bianco a uno dice buongiorno dottore, all'altro buongiorno signora. Questa è ancora una cosa che deve maturare nella mentalità delle persone per cui ci sono medici bravi, uomini o donne, non importa. Una situazione confermata anche dai dati. Nella classifica sulla parità di genere del World Economic Forum l'Italia è all'ottantaduesimo posto. Un crollo di 32 posizioni rispetto all'anno scorso. Io qui in Italia non vedo lo stesso fermento che ho visto in America. Le donne devono essere un po' più consapevoli di avere ancora molte cose da conquistare. Ora passiamo allo sport perché è cominciata da poco la riunione di FIGC che probabilmente deciderà del destino del presidente Tavecchio dopo la sconfitta, lo sappiamo, la bruciante sconfitta dell'Italia contro la Svezia e l'esclusione dai mondiali. A fare il punto per noi sulla situazione e a riassumerci i risultati sportivi di questo weekend c'è Andrea Boeris. Sì, buongiorno Giulia. Allora, la notizia è arrivata perché Carlo Tavecchio non è più il presidente della FIGC. La notizia l'ha data Marcello Nicchi, presidente dell'AIA che sta partecipando appunto al Consiglio federale e adesso quindi la federazione italiana giococalcio dovrà trovare un nuovo vertice e soprattutto qualcuno che identifichi la nuova guida tecnica della nazionale che, ricordiamo, non parteciperà al prossimo mondiale di Russia dell'anno prossimo. Venendo invece al calcio giocato, la notizia di ieri è la sconfitta, la seconda sconfitta in Serie A della Juventus che a Genova contro la Samp ha fatto suo il primo tempo. Nel secondo però ha incassato prima il gol di Zapata poi è andata addirittura sotto 3-0 grazie alle reti di Torreira e Ferrari. Hanno provato a riaprire la partita Higuain e Dybala ma troppo tardi la Samp ha vinto 3-2. Juventus cede quindi la seconda posizione all'Inter che ieri sera si è sbarazzata con il solito Icardi, doppietta dell'Atalanta. In coda invece ha vinto il Genoa che muove un po' la classifica e anche il Sassuolo. Questa sera in programma l'ultima partita che chiude la giornata Verona-Bologna con il Bologna che cerca la vittoria dopo 4 sconfitte di fila. Lina allo studio. Grazie Andrea, parlavi giustamente di calcio giocato. Un tuo commento sul comportamento in campo della Juve? La Juventus probabilmente paga una situazione di non riesce più a vincere. Non riesce più a vincere, manca probabilmente la fame che la squadra di Allegri aveva l'anno scorso e gli anni precedenti. Probabilmente l'obiettivo della Juventus dopo la sconfitta nella finale dell'anno scorso è quello della Champions League. È chiaro però che anche la Serie A deve rimanere un obiettivo perché è alla portata della squadra di Allegri. Grazie ancora. Prima di chiudere un breve sguardo al tempo che farà perché la settimana si apre con il bel tempo quasi su tutta la penisola. deboli piogge e qualche nube sono in Sardegna, Calabria e Sicilia. Ma il tempo che si sposterà con il passare dei giorni verso il centro e nel weekend invece il tempo peggiorerà al nord. Previste piogge in Liguria e Piemonte per sabato mentre domenica arriveranno in Friuli, Emilia e Toscana. Prima di chiudere ancora per voi un ultimo servizio perché la settimana scorsa c'è stata la grandissima apertura del parco agroalimentare più grande al mondo FICO, fabbrica italiana contadina a Marchio Italy hanno seguito l'inaugurazione per noi Sara Del Dott e Jacopo Bernardini. Il servizio. 100.000 metri quadri, 2.000 tipi di piante e 200 specie di animali sono solo alcuni dei numeri di FICO il Tempio del Cibo Made in Italy inaugurato mercoledì a Bologna dal fondatore di Italy, Oscar Farinetti. All'esterno del più grande parco agroalimentare del mondo grande quanto 14 campi da calcio tra le fattorie e i terreni appena piantati c'è spazio anche per i tartuffi. All'interno gli stand con i laboratori delle aziende danno vita al supermercato 2.0. Qui nel laboratorio è aperto a tutti faremo la nostra scuola artigianale di caramelle dalla cottura dello zucchero fino a produrre da soli la propria caramella e portarsela a casa. Il cuore della Disneyland del Cibo che per i promotori sarà importante far continuare a battere tutti i giorni. Sicuramente per dare tutte le sue potenzialità dovrà essere vivo bisogna arricchirlo di contenuti creare eventi, presentare e quello che faremo ogni settimana ci sarà un casificio ci saranno persone vere che spiegheranno il lavoro e siamo convinti che con questa offerta con questa proposta sempre profonda nei contenuti potrà veramente dare le ali a questo grande progetto. Fico è in astro di partenza e i 6 milioni di visitatori auspicati da Farinetti sono ancora lontani ma i primi clienti sembrano soddisfatti. Molto bello è un grande potenziale grande orgoglio se puoi averlo qua vicino a Bologna io sono molto contento. A mio parere se viene utilizzato bene è un beneficio per tutta la nazione Fico a parte la bella esperienza per chi lo vede. È un'occasione anche per dare lavoro a tanta gente quindi secondo me è una bella cosa. Fico? Fico. Dopo questo sguardo sulle attrazioni offerte da Fico a Bologna da TG Sestina per il momento è veramente tutto vi ringraziamo di averci seguito Buona giornata e arrivederci alla prossima edizione. Buona giornata Ciao Grazie a tutti.